Marco dove siamo oggi? Siamo all'interno della sala giornalieri della Lamantino Brothers. Sala giornalieri, noi qui vediamo i giornalieri, ok? No, no, non sentiamo la musica, vediamo i giornalieri. Cosa sono i giornalieri? Vediamo se lo sai. I giornalieri? Potoverso in castagno, in bullo. I giornalieri sono il lavoro della giornata. Sì, va bene, capitano. Il regista, la fine giornata, va a vedere i giornalieri. Cioè, il lavoro, il girato del giornata. Il girato del giornata, sì. Girato del giornata, come il muore di giornata, come la mozzarella di giornata. Eh, beh, comunque, i giornalieri sono... tre giornata. Lo sai che mi sembra? Quel programma televisivo a premi dove tu devi dire le parole, un interrogatorio, ci sono sette nomi che devi fare con baciavole, cosette così, la catena, le gold, non lo so come si chiama. Sempre facciamo pubblicità. Dove stai? Siamo in un cinema. Si vede? coltroncina, testa del cinema, telo, cose cinesi. Ma perché queste luci così bang? Perché sono corpi illuminanti, non sono spot. Se ci metti una... Anche lo spot è il corpo illuminante. Fanno una luce diffusa, che davanti ci metti. È un bang, multi, non puntiforme. È finito. Non me la hai. Comunque, siamo all'interno della sala della LBCinema, perché questa sala cinematografica è gestita... Questa sala cinematografica... Questa sala cinematografica è gestita dall'associazione LBCinema. Chi è l'associazione LBCinema? L'associazione LBCinema.it è un'associazione che ha come mission la cosa? Chi ha come mission? La missione di LBCinema è la valorizzazione, la promozione delle attività cinematografiche. Ok, infatti il sito LBCinema ha? Più di 650 recensioni di film e serie televisive. Film e serie televisive, ok. Allora... Si trova di vedere anche una serie di recensioni di due giochi, eh? Due giochi per la PlayStation. Allora... Proprio pochi, due soli. LBCinema ha come obiettivo quello di fare informazione e divulgazione delle attività cinematografiche e non lo fa in... Si sta incartando. Non lo fa in... Non lo fa in maniera generalista, ma lo fa in maniera settoriale. Infatti ha molte divisioni. Cioè ha la parte della serie televisiva psicologica, la parte della serie televisiva a sfondo legale. Cioè ha i grandi processi. Legal drama. Legal drama. Legal drama. E poi il poliziottesco. Quello, si. Sono dei poliziotti. Perché non mi viene da dire poliziottesco, poliziottesco. Comunque non è. Comunque, sì. Ci sono tre persone che passano in rassegna tutte, molte serie televisive, non tutte perché forse non lo sapete, ma nel mondo escono circa 450 serie televisive dell'anno. Come... Che non sono le puntate. Che non sono le puntate. Sono serie televisive separate. Sei. Tengo a precisare che sono circa 400 ogni anno. Non è che, che ne so, un anno ne cancellano 20, l'anno dopo non le rifanno. Ne fanno altre. Quindi sono circa 400 serie televisive annuali. E nel nostro piccolo, perché all'interno dell'associazione c'è la PM, la Product Manager, Vanessa, e un'altra scrittrice che è Cristina Roselli. E me ne... Mi domanda. Cioè, tu presenti Vanessa come Vanessa. Cristina Roselli come Cristina Roselli. E io sono Marco Croci, un attimo. No, ma, Vanessa. Sono Vanessa? Vanessa, puoi dire? Non ho detto il cognome? Ma non lo so. Vanessa Ripari, che è la Product Manager dell'associazione. E segna sta cosa. Ecco lei che segue tutti i progetti dell'associazione, tra cui il sito internet e le tre rassegne che adesso stanno, si stanno svolgendo a... In questa sala. In questa sala dell'associazione. Comunque, c'è da dire che noi tre guardiamo circa 150-200 serie televisive. Il 50% della produzione mondiale. Sì, un 50% sì, della produzione mondiale non è proprio il 50%, è un po' di meno. Perché, ad esempio, i centri maggiori di produzione sono l'Inghilterra, c'è la BBC che sforna la serie televisiva tutto l'anno. Poi, il Canada. Poi, il USA. Il USA. E noi, prettamente, seguiamo principalmente questi tre paesi. Poi c'è le serie televisive del Sud America, che sono come le descrivono le serie americane. Tutte delle lopera. Mammelito. Ecco, comunque, le spagnole e le tedesche. Che, brutto a dirlo, ma le serie televisive italiane di originale. Originali non ce ne sono, sono tutti i format acquistati. Esempio, Boris. Serie televisiva spettacolare. È una serie comprata, copiata a un format comprato negli Stati Uniti. 30 Rock è il sistema, il format. E questo. Cesaroni. I Cesaroni. Sì, è un format. Velvet è un format. da quale c'è? A proposito, dovete sapere che c'è una serie televisiva che si chiama Il Misteri di Laura, che è una serie televisiva spagnola. Spagnola. È stata acquistata da un network americano, da Missy Luiz Loura, e c'era l'attrice protagonista, quella di Wille Grace, di Wille Grace. Ed è l'Italia che ha comprato il format. Il Misteri di Laura. Per me non da Suttanale 5, se non mi sbaglio. È inguardabile, però. No, questo non si può dire. Cioè, io conoscendo la reale, dico questo. Allora, cosa importante? L'associazione non si ferma a raccontare le produzioni cinematografiche e televisive dei big player, cioè delle grandi produzioni, ma fa anche dello scouting per le produzioni quelle indipendenti. Naturalmente, la nostra richiesta qual è? È quella di aiutarci a selezionare, proponete dei materiali da recensire e che l'associazione si sta dotando di uno spazio e-commerce e qui sarà possibile anche fare la produzione dei prodotti per tutti i nostri soci dell'associazione. Spero. Poi cosa dire ancora? che questa sala è per i prossimi due mesi occupata con tre rassegne, martedì, mercoledì e giovedì. Martedì, rassegne di documentario scientifico con quattro documentari della BBC sulla biologia dell'essere umano. Sulla biologia dell'essere umano, infatti la serie di documentari si chiama Inserri Human Body. Il mercoledì c'è le vie della violenza psicologica, dove c'è una psicoterapeuta che ha scelto una lista di film e a ogni film ha abbinato una violenza che si svolge all'interno di quel film, giusto? E giovedì c'è l'organismo italiano, diciamo i principali film che hanno creato il cinema del neorealismo e il cinema del reale. Oggi, questa sera, guarderemo Shusha, abbiamo visto Paesà, abbiamo visto Roma Città Aperta, abbiamo visto La Terra Trema, Stromboli, Terra di Dio. Poi abbiamo visto anche altri. Allora, siccome il tempo è tirante e stiamo terminando il nostro tempo a disposizione, vi ricordo, iscrivetevi al canale qui sotto, qua sotto, e... mandateci tutti i vostri commenti al video e... di qua. Qua è? Sicuro? Lì. Qui è? Lì. Eh sì, adesso lo vedo. Ecco, eh. Arrivederci alla prossima settimana. Grazie. No, io y like. Slow.